Questa settimana FWG Strade ha svolto alcune analisi e verifiche strutturali su due ponti lungo la strada regionale Udine 78 nei comuni di Manzano e Pavia di Udine. In particolare le prove di carico, come documentano le tre foto, hanno interessato il ponte sulla roggia Manganizza e quello sul Torre, entrambi situati lungo la ex provinciale di Mortagliano, nel tratto di collegamento tra Manzano e Percoto. Tale itinerario risulta particolarmente frequentato dai transiti eccezionali provenienti dalle zone artigianali, site lungo la strada regionale 56 e dirette al porto di Monfalcone. I due ponti sono stati sottoposti al carico di circa 220 tonnellate e hanno dimostrato un'adeguata risposta delle strutture alle sollecitazioni imposte. Continua l'attività di analisi e verifica dei ponti e viadotti sulle strade gestite di competenza della concessionaria regionale, finora tutte le prove sostenute hanno dato esito positivo mettendo in luce una buona condizione strutturale delle opere stesse.